Ciao a tutti, bentornati sul canale giornalismo del cuore italiano GF VIP, Alex Belli e Delia Duran sotto i riflettori, Carlo Cozzo racconta tutta la verità sull'incontro con la nota showgirl Delia con l'amante.GF VIP, Delia Duran sotto accusa.I nomi di Alex Belli e Delia Duran continuano a monopolizzare i titoli delle principali testate di Gossi I due sono infatti stati protagonisti di una serie di tradimenti reciproci che hanno infiammato il pubblico social e la critica Mentre Belli ha avuto una lesona amorosa con Soleil all'interno della casa più spiata d'Italia, La Duran ha invece trovato conforto tra le braccia di Carlo Cozzo, giovane imprenditore napoletano Nonostante questo, come molti sanno, Delia Duran ed Alex Belli sembrano aver chiarito dopo l'uscita dal reality di Alex il nome di Carlo Cozzo sembrava definitivamente uscito di scena Tuttavia in queste ultime ore l'imprenditore napoletano ha ripreso a parlare, raccontando in diretta la sua verità tramite un video postato sul suo profilo Instagram Chi è Carlo Cozzo? Carlo Cozzo è un imprenditore napoletano che si occupa di marketing e comunicazioni e che recentemente si è inserito anche nel mondo del mercato immobiliare Il suo nome è stato praticamente sconosciuto ai più fino a qualche tempo fa quando lo stesso Cozzo fu paparazzato insieme ad Elia Duran, moglie di Alex Belli che al tempo si trovava nella casa del GFV Di lui non sappiamo molto ma lo stesso Cozzo ha affermato di essere ricco Con un video di 5 minuti postato sui social network Carlo Cozzo, il giovane manager napoletano salito alle luci della ribalta perché paparazzato insieme ad Elia Duran ha voluto sfogarsi e raccontare a tutti i suoi followers la sua versione dei fatti Cozzo ha voluto esordire il suo racconto specificando che quanto c'è stato tra lui e la Duran era tutto vero e reale, diversamente da quanto detto da Alex Belli La verità di Carlo Cozzo.Carlo Cozzo ha infatti raccontato di aver incontrato Elia Duran a cena e che questa si è detta molto attratta fisicamente da lui I due avrebbero cenato insieme e si sarebbero poi spostati in una camera d'albergo per continuare la serata insieme ad una terza amica, di nome Claudia, che sarebbe poi stata rifiutata dall'imprenditore che avrebbe scelto di rimanere solo con Elia Duran Potrebbe interessarti anche, Delia Duran saluta il marito in carcere e si intasca tutti i soldi, più ricca di Alex Durante il video postato sul suo canale Instagram personale, Carlo Cozzo ha anche aggiunto numerose prove a sostegno del suo racconto Tra questi ci sono anche gli audio in cui Delia affermava di voler lasciare Alex per stare con Carlo ed una foto della Duran il mattino dopo aver passato la notte insieme a Carlo in albergo Belli a Duran e Carlo Cozzo.Inoltre a detta dello stesso imprenditore, numerosi amici comuni ai due potrebbero testimoniare la veridicità di quanto da lui affermato Carlo Cozzo si è infine scagliato contro Alex Belli, che a sua detta si sarebbe comportato male sia con Delia che con lui, asserendo che la loro relazione non era reale Nel video l'imprenditore ha anche affermato chiaramente che vorrebbe passare un'altra notte con Delia solo per ripicca contro Alex Belli Non sappiamo come evolverà la storia ma tutti i followers e gli appassionati di gossip si chiedono come evolverà la storia e se Belli reagirà alle provocazioni di Carlo Cozzo Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video